Buongiorno e bentornati a Talk Sicilia, il nostro programma di approfondimento. Ancora oggi, dopo aver trattato ieri con il professor Vito Riggio, neo-amministratore delegato di GESAP, che la società gestisce l'aeroporto di Palermo, Falcone e Borsellino, ancora oggi, dicevo, la puntata è dedicata al Corovoli, una piaga che sta mettendo a dura prova la pazienza dei siciliani e non soltanto. Oggi affronteremo il Corovoli da una prospettiva completamente diversa, io direi una prospettiva a 360 gradi, che va oltre il problema delle feste, del mancato rincoggiungimento familiare tra parenti che vivono alle due sponde dell'Italia. E per parlare di questi problemi che affliggono l'economia siciliana, le imprese siciliane e le famiglie siciliane, quindi l'impossibilità di prendere un volo senza rischiare di prendere una mazzata economica, abbiamo come ospite Antonio Lococo, che nonostante la giovanissima età, vedete questo bellissimo personaggio che oggi ci dà l'onore di essere ospite con noi, è presidente dell'industria di Confu Commercio per la Sicilia ed è anche amministratore di un'importante impresa, una compagnia che si occupa di uno dei prodotti dell'eccellenza, il best of season del pesce, quindi amministratore della Blue Ocean, società prestigiosa, abbiamo avuto, vabbè non lo dico perché faccio altrimenti sponeraggio, però insomma, allora Antonio, benvenuto a Talk Sicilia. Grazie dell'invito, intanto grazie anche delle parole, delle belle parole dell'accoglienza. Non rispondono la verità, a me si sono sempre tenuti a dire la verità, quindi qualsiasi parola io abbia pronunciato è stufragata da fatti circostanziati e precisi. Detto questo, ho visto che hai portato una montagna di carte e controllavi spasmodicamente il tuo iPhone perché continuano ad arrivarti delle tariffe, che succede Antonio? Succede questo, che intanto è da tre anni che si parla di carovoli e di problemi insomma che riguardano un po' tutti i siciliani, ma non solo, perché comunque sta diventando una cosa insostenibile e nonostante da tre anni che si parla di carovoli abbiamo sempre riscontrato qualche volta qualche chiacchiera da parte della politica, ma poi nulla di concreto e questa cosa ci lascia un po' la mare in bocca, sia da un punto di vista umano, sociale, perché comunque noi siamo padri, figli, abbiamo parenti fuori, quindi ci tocca personalmente perché comunque sentissi figli di un dio minore. Sì, perché subiamo questo abbandono in quest'isola che poi si ripercuota nei periodi di maggior festa, ma da imprenditore dico che il problema del carovoli non è un problema soltanto sociale, che è importante a sua volta, ma che non è l'unico problema perché da un punto di vista imprenditoriale ci troviamo a far fronte nei periodi festivi, pasquali, natalizi o comunque quando c'è necessità a pagare dei prezzi esorbitanti per biglietti magari che dobbiamo fare anche in giornata, quindi se io mi devo recare a Milano da un cliente prestigioso piuttosto che a Roma, a Napoli, in altri posti d'Italia, nel periodo a ridosso delle festività mi trovo a pagare dei prezzi diversi rispetto a quelli che pago in altre circostanze, addirittura in molti casi anche raddoppiati e quindi questo penalizza anche da un punto di vista competitivo le aziende che si vogliono interfacciare. Peraltro vale anche al contrario, nel senso se qualche manager importante deve venire a visitare industriali, imprenditori siciliani, magari ci pensa due volte perché un biglietto costa troppo. Assolutamente sì. E certe cose non si possono fare via Zoom online, ci vuole una stretta di mano per fare business. Ho fatto stamattina proprio perché volevo un po' parlare con dei dati certi, perché forse a volte ci dimentichiamo un po' quello che è la certezza. Un biglietto fatto su Milano, andato e ritorno, nel periodo tra il 25 aprile e il 1 maggio, mi costa un 70% in più rispetto a un biglietto fatto la settimana successiva dopo il 1 maggio, cioè giovedì su giovedì, stessi orari di partenza, stessi dati, stessi orari di arrivo, addirittura uno costa 170 euro andato e ritorno e l'altro costa 100 euro. Quindi anche queste situazioni creano uno svantaggio competitivo per le aziende che penalizzo un po' quello che è l'attività lavorativa perché inevitabilmente poi o rinunci molto spesso o cerchi di spostare l'appuntamento o se devi andare proprio, comunque hai un costo un costo che è eccessivo rispetto al resto. Per viaggi è possibile calcolare quanto incide sul bilancio di un'azienda, la voce, viaggi, missioni? Comunque viaggi e trasferte sono delle spese importanti, se tu ti vuoi aprire a un mercato estero o comunque a un mercato nazionale è necessario che tu ti sposti in maniera frequente. Io molto spesso mi trovo, in alcuni periodi quando abbiamo iniziato alcuni tipi di lavori con clienti prestigiosi, anche ogni settimana mi recavo a Milano, a Roma per cercare di sviluppare un business che per noi era cruciale, era importante, che era quello appunto di portare il pesce in quelle zone dove c'è molta richiesta. E quindi comunque dipende molto dalla tipologia e dipende anche molto perché comunque poi comporta anche una serie di gravi costi, quindi quello dell'uso dell'aereo è il mezzo più rapido, più veloce, più comodo ma è anche quello più costoso. E questo per fare una panoramica su quello che è un po' lo svantaggio che subisce l'azienda per il caro voli, ma c'è un altro svantaggio che da imprenditore ho... Devi registrare. Sì, sì, che è maggiore, che è indiretto. Per fare chiarezza, questa prima parte della tua argomentazione riguarda il danno che subiscono direttamente le imprese nel dover rinunciare a tutta quell'attività di pubbliche relazioni, che diciamo... O di aggravio di costi, assolutamente. È un aggravio di costi che... Assolutamente. E questo è diretto. Tu mi raccontavi, perché insomma prima di andare in onda ci siamo fatti due chiacchiere, mi raccontavi che in realtà il caro voli ha un effetto domino negativo sull'economia siciliana perché i turisti vengono di meno e la mancanza di turisti si ripercuote, il famoso paniere agroalimentare turistico della regione va un po' a farsi benedire, no? Assolutamente sì. E diventa fuori mercato. Assolutamente sì, perché se ipotizziamo e immaginiamo, ma l'abbiamo visto con dati alla mano, che per tornare in Sicilia uno studente, un lavoratore fuori sede, spende 400-500 euro per fare andate e ritorno nel periodo festivo, la stessa cifra lo spende ovviamente un turista, che trovando magari delle offerte più vantaggiose su Lisbona, su Istanbul, stamattina da un'amica che lavora in un'agenzia di viaggio mi sono fatto mandare proprio dei pacchetti vacanza, no? E facci degli esempi concreti. Sì, sì, guarda, un esempio concreto che ho visto che è quello che un po' mi è balzato all'occhio per il weekend del 25 di aprile, quindi partenza da venerdì a lunedì, con quattro notti, per esempio partendo da Roma, ci sono 459 euro a persona, compreso però il volo, l'hotel e la prima colazione, cioè quando abbiamo a che fare con una competitività così importante… Diciamo che il turismo siciliano è fuori mercato. Il turismo siciliano a questo punto diventa fuori mercato, è il turismo siciliano, non solo difendo le aziende, perché in Sicilia abbiamo la fortuna di avere un posto meraviglioso con un clima stupendo, il mare, la montagna, ricco di cultura e tradizioni, monumenti, c'è un patrimonio naturale, un patrimonio archeologico che è inestimabile e quindi è una meta molto attrattiva da questo punto di vista. Ma ci faccio una domanda brutale, ma noi ci stiamo prendendo in giro raccontando che il futuro della Sicilia sia basare sulla valorizzazione dei nostri beni, perché se non ci può arrivare in Sicilia noi ce la guardiamo e noi ce la sogniamo. Al di là dei beni, al di là dei beni, al di là di tutto, ci sono anche delle tradizioni enogastronomiche importanti in Sicilia. E quindi comunque tutta l'industria dell'enogastronomia, i vini, l'agroalimentare in genere, assolutamente sì. Quando il turista… Cioè dovremmo avere noi flotte di turisti in questo periodo, con questo clima, con questo mare che abbiamo per ora, dovremmo avere flotte di turisti. Invece molto spesso il turista che si trova di fronte a fare una scelta, ad andare a Lisbona con 459 euro, piuttosto che in Sicilia che con la stessa cifra ci paga solo il biettero, là invece c'ha incluso l'albergo e la prima colazione, oltre che il volo, è ovvio che noi subiamo uno svantaggio competitivo che è importante, perché un turista che va in vacanza comunque ha una propensione alla spesa che è maggiore, quindi vuole provare i prodotti tipici, quindi lavorano di più in ristoranti, deve dormire da qualche parte, Airbnb, i transferi, quindi i taxi, Pullman, c'è un indotto nel turismo. Il famoso circolo virtuoso dai netti. Assolutamente sì. Diciamo di questa… Non riesco a comprendere come è possibile che la politica non valuti positivamente questa cosa, come non si renda conto. Antonio, perdonami, è la terza volta che tu utilizzi il sostantivo politica, a questo punto però bisogna capire quali sono i gap della politica rispetto a questo problema e quali le proposte che il mondo auditoriale può… Guarda, uso la parola politica perché di fondo c'è un problema sull'aspetto carovoli che è la compagnia di bandiera italiana, è comunque di proprietà del Ministero dello sviluppo economico, quindi comunque non riuscire a trovare una formula che consenta di avere o un tariffario limitato che comunque consenta di avere delle soglie… Una sorta di sale di capo, per esempio. Oltre quello non si può guardare. Oltre quello, che può essere la media di alcuni… di quello che è l'andamento annuale, può essere qualunque tipo di sistema, ma l'importante è che ci sia un minimo, un massimo, che almeno ci sia consapevolezza e che sia utilizzabile tutto l'anno. Cioè questa cosa di schizzare che un giorno costa 100, un altro giorno 700 è una follia. No, ma per tre volte non è possibile, cioè non è concepibile. Soprattutto non è più accettabile. È palese che è speculazione pura, cioè è solo speculazione. E l'altra… quindi o si crea un tariffario, oppure si fa quello che si fa di solito quando c'è una questione di domande e offerte, si aumenta un po' quello che è l'offerta. Se la domanda in questi periodi aumenta, non posso pretendere di avere lo stesso numero di voli che ho durante un periodo di febbraio, di novembre, dove i voli sono minori. Cioè se il problema sono le tariffe che non possono essere aumentate perché non possono essere limitate per tante ragioni che ci possono essere dietro, che ripeto non comprendo perché è la politica che se ne occupa il Ministero che ha la compagnia di bandiera italiana, ma a prescindere questo, cioè bisogna aumentare il numero dei voli, in modo che così aumenta l'offerta e l'offerta di conseguenza si sposa meglio con la domanda e crea un ribasso dei prezzi, perché altrimenti così continuiamo sempre a parlare, veramente da tre anni parliamo di caro voli, il problema si è sempre posto a Natale, il problema si ripropone a Pasqua e a Natale continueremo a parlare di caro voli. Però perdonami se ti interrompo, in realtà il problema si presenta e diventa, diciamo viene urlato dalla cronaca Natale, Pasqua e tutte le feste comandate che Dio manda in terra, ma in realtà per un imprenditore, per chi fa impresa, per chi fa turismo, per chi offre servizi, in realtà è un problema che vale 365 giorni l'anno perché questa ghigliottina può scattare in qualsiasi momento, è un meccanismo incontrollabile quello delle terri ferie. Sì, assolutamente sì e tra l'altro, ripeto, non è una questione legata solo a un aspetto sociale, perché io pure ho un amico di Pisa, era dispiaciutissimo perché il 30 di aprile la sorella fa 25 anni di matrimonio, loro sono in quattro in famiglia, mi alza le spalle mi dice, come faccio a spendere, più di 1000 euro per riscendere, quello da un punto di vista umano già ti fa rabbia e basterebbe solo questo per farti saltare dalla sedia, se poi ci aggiungiamo che c'è un danno diretto per le imprese che devono trasferire, devono spostarsi magari anche in giornato, a distanza di due giorni, che in quel periodo pagano di più. Lì c'era un mese prima quando partire. Ok, e seconda cosa poi che ti fa rabbia che vedi magari dei pacchetti turistici in altre parti dell'Europa o anche d'Italia stesso, che hanno dei costi più accessibili, perché con le stesse cifre, con gli stessi soldi, hanno pure compreso l'hotel e la prima colazione, lì salti un po' dalla sedia e dici, aspetta, è da tre anni che ne parliamo, siamo stanchi di sentirci chiacchiere, anche ora chiacchiere, le risposte alla procura, ma pensiamo ancora di andare avanti perché dobbiamo sempre aggiungere qualcosa, perché dobbiamo andare… Però l'esposta alla procura va in direzione di quello che tu sostenevi, la speculazione. Eh sì, ma evidentemente tutti si rendono conto che c'è una speculazione, ma è sufficiente un'esposta alla procura con quello che può fare la politica, cioè perché demandare un problema alla magistratura quando la politica stessa lo può gestire in maniera diversa? È una sorta di resa, dici. Eh sì, oppure… Se avete voi gli strumenti in mano, utilizzateli. Cosa vogliamo fare? Poi possiamo giustificare tutto, però dico alla fine è un problema che se si presenta e se ne stiamo parlando vuol dire che in qualche modo deve essere affrontato, deve essere affrontato in maniera definitiva, non può essere affrontato con l'aggiunta di una tratta Palermo-Roma, l'altro giorno sentivo proclami perché abbiamo aggiunto una tratta Palermo-Roma con una compagnia low cost, non è sufficiente quello. Non è sufficiente. Cioè occorre veramente rivedere un po' quello che è la struttura logistica? Ma in realtà per ora, vado un po' fuori tema, in realtà il problema dell'infrastrutturazione della Sicilia, il problema dei trasporti, credo che sia il vero tallone d'Achille della nostra capacità di sviluppo, no? Sì, sì, ma non è soltanto un problema legato ai voli, è un problema legato anche via terra, insomma, facciamo tanta fatica a trasportare la merce, a riceverla. Cioè, pazze, noi siamo al centro del Mediterraneo, dovremmo essere un hub di scambi commerciali con tutto il mondo e invece siamo all'anno zero. Dobbiamo pensare che le merci che vengono dall'Acino, dai paesi orientali, piuttosto che passano dallo strato di Gibraltar, fanno tutto il giro e vanno a finire ad Amsterdam piuttosto che scaricare in Sicilia, perché non c'è un hub portuale adeguato, perché le strade sono quelle che sono, perché abbiamo difficoltà poi a spostare le merci via terra. C'altro che corridoio Palermo-Berlino, che ora addirittura probabilmente per motivi geopolitici lo chiamano Palermo-Berlino-Kiev per ricordarci che c'è un conflitto in corso, ma in realtà il corridoio è… Il fatto che se ne parli è già un buon segno, il fatto che già si faccia comunque l'esposto comunque è qualcosa che dà la percezione che è un problema che va affrontato e va gestito, però oggi concretamente a parte le chiacchiere, a parte l'esposto non c'è nulla di concreto che possa rassicurare un po' tutti, non soltanto i cittadini siciliani, ma anche le imprese che operano sia in Sicilia, sia fuori dalla Sicilia e che hanno scambi con la Sicilia. Quindi dobbiamo vedere un po' il problema a 360 gradi, dobbiamo aggiungere che è un problema che riguarda tutti, riguarda anche come dicevo poco fa i ristoratori, le attività commerciali, chi vende suvenire… È un sistema integrato, è chiaro. Sì, è un sistema integrato che non può… Potete fare però una domanda tra bocchetto. Abbiamo parlato di carovoli, di trasporti, politiche di trasporti, tu hai sottolineato quelle che sono le defiance strutturali della nostra terra, hai delineato quali sono le carenze operative di chi ci amministra e ci che dovrebbe avere un ruolo maggiormente propositivo. Però parlando di tutte queste fragilità del sistema, l'Europa, come ci viene incontro? E a questo punto ti faccio una domanda particolarmente invasiva perché è proprio diretta al settore merceologico di cui tu ti operi particolarmente. Per esempio la politica Europa per la pesca penso che sia una catastrofe per il mondo siciliano. Sì, come d'altronde la mancanza di attenzione dell'Europa nei confronti dei trasporti in Sicilia perché quando ci vengono a dire, vabbè pensateci voi, non vi accuseremo di aiuti di Stato ma pensateci voi è come dire… La domanda porta inevitabilmente a una considerazione generale dove effettivamente ci sono dei problemi strutturali nell'asse regione, nazione e Europa che probabilmente non funzionano bene. Se porto l'esempio della pesca è normale che ci siano dei discostamenti tra quello che è la politica comunitaria rispetto a quello che noi viviamo in Sicilia. Molte politiche vanno contro quello che è la pesca artigianale, la piccola pesca. Cioè la politica europea è il bastoncino più gelato? La politica europea purtroppo nella pesca è quella di cedere le licenze, ridurre la flotta, demolire la flotta perché comunque non c'è volontà di sostenere la piccola artigianalità. Piccola artigianalità ricordiamo a tutti significa eccellenza e qualità, prodotti che ci invitano al mondo. Ma significa anche posti di lavoro, significano anche pescatori, significano famiglie, significano figli. Quindi colpire la pesca perché si fanno dei tagli che sono uniformi su tutta l'Europa, non è possibile farli. Non puoi gestire la pesca nella stessa maniera come la gestisci in altre aree. Nel nord atlantico diciamo. Nel nord atlantico, anche perché comunque poi è un paradosso perché Malta o i paesi dell'Africa che non fanno parte della comunità europea nei nostri mari perché fanno quello che vogliono. Pertanto se non sbaglio arrivano pure le flottie pescatori giapponesi, arrivano ogni tanto pure a fare abbattere. Sì, perché hanno comprato delle barche, perché comunque poi alla fine c'è interesse. E allora capita come per esempio la situazione del tonno dove c'è un'abbondanza di stock di tonni perché con le politiche restrittive degli anni precedenti comunque la popolazione di tonni è aumentata notevolmente. Nonostante questo non possiamo pescarli perché abbiamo delle quote che si basano su studi fatti tanti anni fa. Tanto ricordo che qualche anno fa spostavano le quote siciliane, finirono in Sardegna dove non ci sono le flotte. Sì, poi qualcosa. Non hanno idea di quello che fanno. Non hanno idea perché comunque non c'è attenzione, c'è troppo spostamento. O probabilmente perché hanno una conoscenza della pesca industriale. O probabilmente perché hanno altri interessi perché magari poi essendo l'Europa un organismo collegiale dove ci sono stati altri stati membri, se la maggioranza in democrazia vince sempre, l'Italia è da solo, ovviamente deve subire un po' quell'isola politica. Tra le righe mi stai dicendo che dopo il Qatargate potrebbe scoppiare a Bruxelles un fishgate. No, no, no. Eh, ma non lo sclude. Ritorno a fare l'imprenditore di una piccola azienda regionale. La cronista d'inchiesta immagino come dire che ci sia qualcosa. Oggettivamente… Le lobby esistono a Bruxelles. Oggettivamente sì. E chiaramente la lobby delle grandi multinazionali pesa più della lobby di piccoli artigiani. Non solo a Bruxelles, però devo dire che il comparto della pesca, così come i trasporti, così come tutto quello che riguarda la Sicilia, secondo me merita un'attenzione maggiore, sia per quello che rappresenta la Sicilia in termini di economia, bellezza, ambiente, e sia anche per quello che rappresenta a livello storico, perché comunque la Sicilia è sempre stata al centro del Mediterraneo, ha sempre avuto un ruolo cruciale all'interno del Mediterraneo, quindi il fatto di vederla così un po' penalizzata da siciliano, anche mi tira fuori quella punta di orgoglio di dire… In pratica stai ribadendo la nostra volontà, il nostro principio a continuare a esistere, non essere… Sì, assolutamente sì. Il turismo credo che sia una delle armi vincenti per poter affrontare meglio il futuro e valorizzare i settori primari, quindi l'agricoltura e la pesca, perché comunque abbiamo una tradizione no gastronomica… Anche un bellissimo patrimonio di biodiversità. Assolutamente sì, abbiamo una tradizione no gastronomica che è importante in Sicilia, abbiamo una fusione di prodotti di pescato che si intrecciano con i prodotti di terra, quindi ci sono una serie… Penso ai nebrodi, alle varietà dei nebrodi dove ci sono… Ma pensa che per esempio l'involtino di pesce spada viene fatto con prodotti di terra, perché c'è il pangrattato, quindi il grano, cosa fare con il pesce… Sì, ma tra l'altro abbiamo in qualche modo scoperto queste eccellenze, stiamo cercando e molti già le hanno portate avanti queste eccellenze, io sono molto ottimista da questo punto di vista, sono sicuro che verranno fuori… Dateci una mano, dateci i aerei per andare a fare business in tutta Europa. Proprio questo, dateci le condizioni per poter avere la possibilità di collegarci con il resto dell'Italia, di poter esportare in maniera più semplice i prodotti fuori dalla Sicilia, perché ne abbiamo bisogno, oggi non possiamo più restare isolati in tutti i sensi. L'isola che non deve essere più un'isola, allora io spero che chi di competenza, chi muove i fili dell'amministrazione a livello regionale, nazionale, europea, abbia ascoltato l'appello che ha lanciato dai nostri schermi social e tv Antonio Locopo, che ricordo a tutti, è presidente degli industriali di Confu Commercio per la Sicilia ed è anche amministratore di una bellissima compagnia che si chiama Blue Sian che si occupa del settore ittico, uno dei patrimoni della nostra terra. Io, detto questo, ti ringrazio per la precisione e l'accuratezza delle tue riflessioni e speriamo, magari ci aggiorniamo fra qualche mese, speriamo di capire che passiamenti sono stati fatti. Con molto piacere. Allora, un grazie Antonio Cocco, un grazie a voi che ci avete seguito. Alla prossima puntata di Talk Sicilia. Alla prossima puntata di Talk Sicilia.